Le difficoltà ci saranno, impariamo a superarle e soprattutto, cazzo, diamoci il nostro tempo. Hola! Benvenuti nuovamente nel format del mio diario. Oggi registro questo video di notte, che ho fatto tardissimo, sono arrivato in un nuovo posto, che sembra tipo Salerno d'inverno, con tutte le luminarie possibili e immaginabili. Quella è anche un po' trash, però è in Cambogia! Per chi non lo sapesse, questo è il format del mio diario. È il format dove abbraccio senza nulla di preparato, dico cose come se fosse un diario dove scrivo e poi alla fine traggo delle conclusioni. Mi metto anche un po' più comodo. Rispondiamo alla domanda di Rito. Come sta andando? Ad andare sta andando perché di base sto continuando, sono quasi in Vietnam, che è l'ultima tappa di questo viaggio ed è assolutamente pazzesco quanto uno possa aver affrontato le proprie paure quanto vuole, però alla fine riemergono sempre. Cioè, in qualche modo non scompaiono mai, anche se hai levato il grosso. Comunque devi fare i conti con esse ogni giorno. È un po' come, non lo so, se siete andati mai a correre o siete mai andati in palestra. Cioè, non è che una volta fatto lo sforzo, hai fatto l'allenamento come si deve, allora poi è finita. Un po' come il freddo. Cioè, non è che se una volta sei stato in una zona particolarmente fredda, ti sei un po' ambientato, poi dopo è risolto. No, cioè, ogni volta che ricapita devi fare i conti con quella roba lì. Ogni giorno sto male. Però ogni giorno sto bene. Che detto così sembra una roba da persona bipolare. Se vi dovessi fare un esempio concreto, prima di realizzare questo video, Quando sono arrivato in questa città, visto che era tutto nuovo, stavo cercando un attimo di ambientarmi, non so bene dove andare, cosa fare, considerando pure che ho soltanto un video in archivio da poter pubblicare, tra virgolette di riserva, poi non c'ho niente. Anche se so che non c'è bisogno di avere un'ansia, di avere paure, perché poi paure di che cosa? Cioè, qui non è che stiamo salvando la vita a nessuno, non stiamo operando a nessuno. Però allo stesso tempo, almeno almeno in questo caso, cambiando posto, ogni volta mi viene una certa angoscia. Che penso sia dovuta a una paura di non sapere che cosa fare. Anche se allo stesso tempo so che se mi muovo poi le cose accadono. Quindi in qualche modo la medicina la conosco. Però, cazzo, ogni volta devi fare i conti con questo stato di angoscia che è bello pesante. E prima di realizzare questo video, come vi stavo dicendo prima, ho passato le prime ore che sono arrivato in questa città in uno stato pesante. L'ho percepito, l'ho capito e ho detto, allora, prima di fare il video del diario, mi stendo un attimo nel letto, tanto comunque ho fatto un viaggio anche bello lungo oggi, mi sono spostato, mi devo riambientare, è inutile che faccio le corse, poi questo, poi quello. Mi sento male, mi sento un'angoscia. Fermi, un attimo, fermi tutto. E ha funzionato. Nel senso che poi mi sono messo nel letto, è stato un'oretta. Non so cosa sia successo. Personalmente lo leggo a semplicemente il fatto che è come se avessi fatto un attimo un reset. Il fatto sta che dopo un'oretta di riposo, bam, sono così come mi vedete adesso. Pensandoci, questa cosa si rilaccia molto al video diario fatto prima di questo, dove dicevo che in realtà molto spesso non è che non abbiamo più energia, abbiamo bisogno un attimo di staccare la spina, anche per poco, come in questo caso. Però ci sono certe volte, non so voi, dove veramente vado nel pallone assoluto. Mi sto rendendo conto che sempre più spesso la soluzione non è aggiungere roba, ma è levare, fermarsi. E questa cosa è fondamentale. E un passettino alla volta la sto facendo sempre più mia. Poi oltre a questo c'è da dire che giorno dopo giorno, soprattutto nell'ultimo periodo, il viaggio lo sto percependo in maniera abbastanza pesante. Dopo Bangkok in particolare. Non so, l'atmosfera, il caos. Qui in Cambogia situazioni di estrema povertà, caldo, micidiale. Ho ancora trovato un posto dopo Bangkok, che sono passati già 25 giorni, dove mi viene da dire, ah vabbè, allora in questo posto ci rimango un pochino. Sono stato i giorni di completo scombustolamento, nel quale sto facendo i conti. E infatti sento, percepisco, una certa fretta di andare in Vietnam. Per come me ne hanno parlato, per i paesaggi che potrei trovare, per tutta una serie di cose che vanno completamente in contrasto con tutto quello che sto vivendo qui in Cambogia, poi bisogna capire nel pratico com'è. Potrebbe essere un luogo veramente, veramente figo, dove potrei magari trovare qualche posto figo, dove stare nel verde per un po' e al contatto con la natura. Il solo pensiero di questa cosa mi fa felice. Poi un'altra cosa che mi sto rendendo conto, man mano che faccio i contenuti, è il fatto di sentire l'esigenza di fare contenuti più elaborati. Però più elaborati vuol dire anche contenuti che richiedono più tempo. Al momento, in questo progetto qui, per come l'ho voluto strutturare, ovvero fare un video al giorno è complicato fare dei video particolarmente elaborati, però allo stesso tempo sto cominciando a soffrire il fatto di dover dedicare relativamente così poco tempo a dei contenuti che voglio realizzare molto meglio. Questo per dire cosa? Che il progetto continuerà fino ad Hanoi, la capitale del Vietnam, come è stabilito, a meno che non ci siano problemi gradi che mi impediscono di andare avanti. Però allo stesso tempo, io in questo momento sto provando una voglia e una fretta, in qualche modo, di voler finire questo progetto, per ricominciare un altro che si addice di più alle nuove consapevolezze che ho preso. Questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché da un lato, figo, che ho preso nuove consapevolezze, figo, che mi sono allenato, mi sto facendo il mazzo così, tutta una serie di cose. Dall'altro non vorrei avere troppa fretta di prendere tutte queste consapevolezze per poi cominciare un nuovo progetto da capo, un nuovo progetto che già ho in mente, di cui vi parlerò fra qualche mese, e quindi di conseguenza di voler finire il prima possibile questo progetto, per poi partire, per poi ricominciare. No, cioè, no, cioè, probabilmente farei lo stesso errore che ho fatto venendo qui oggi, ovvero venire, stare nel posto nemmeno mezz'ora e voler subito agire, subito fare cose, subito, appunto, riprendere questo video, ma in realtà, prima di muoversi in una certa direzione, prima di ricominciare da capo in un nuovo posto, prima di fare tutto questo, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di, in qualche modo, di far lievitare tutto quello che uno ha fatto, per poi farlo fruttare come si deve. E quindi la fretta è quello che veramente, almeno a me in questo caso, mi sta fottendo, e che probabilmente è uno degli elementi che fotte tante gente in generale. Non so quanto si sia visto, ma mentre parlavo, soprattutto in queste ultime cose, mi è salita un po' una roba di emozionarmi, perché in qualche modo è come se avessi aggiunto un altro ingranaggio che mi mancava. Proprio mentre sto parlando, e questa è la cosa fighissima di questa roba qui, perché è veramente come scrivere un diario, dove a un certo punto sei confuso, sei confuso, poi parli o scrivi, vabbè, col diario scrivi, e a un certo punto arrivi alle nuove consapevolezze. Ed è successo proprio adesso, e pensandoci giustamente, la cosa che mi frega, che mi potrebbe fregare, è avere la fretta di tornare. Che fretta c'è? Finisco questo progetto. Gli do tutto l'impegno possibile e immaginabile che posso dedicarci. Una volta finito, immagino di avere anche una soddisfazione, non da poco, perché dico, ho iniziato questa cosa, volevo farla, l'ho finita, quindi un grande obiettivo. Tornare, far un attimo lievitare tutto, e poi ricominciare con il nuovo progetto che ho pensato, che appunto di cui parlerò fra qualche mese. Non lo so, guardate, veramente questo format qui è bellissimo. Spero che in qualche modo a voi vi arrivi qualcosa, perché, ripeto, e ci tengo a sottolineare, non ha nessuno scopo di insegnare niente, ma semplicemente lo scopo di comunicarvi senza filtri quello che provo, quello che penso. E in base a questo, se volete, potete prendere qualche pezzettino che reputate giusto. Oppure, come ripeto sempre, scrivetemi nei commenti, Giulio, guarda, stai dicendo tutte cacate, perché ci può stare benissimo. Il mio invito, dopo tutto questo discorso, cazzo, prendiamoci il nostro tempo. Iniziamo e finiamo le cose che ci siamo detti di voler fare. Piccola parentesi. Se a un certo punto ci rendiamo conto che le cose che stiamo facendo non vanno più bene in maniera esponenziale, è inutile continuarle, continuare a fare. Bisogna anche capire quando è il momento di fermarsi. Chiusa parentesi. Prendiamo il caso in cui abbiamo cominciato una cosa e la cosa giusta da fare, da mandare avanti, nonostante il risultato, eccetera. Cioè, ci rendiamo conto che è la cosa giusta da fare, quindi non è una cosa da interrompere per poi ricominciare un'altra. Detto ciò, il mio invito che faccio a me, in prima persona, che faccio a tutti quanti voi, è una porca puttana. Iniziamo una cosa, impegniamoci per finirla, le difficoltà ci saranno, impariamo a superarle e soprattutto, cazzo, diamoci il nostro tempo. Diamo il tempo alle cose di lievitare e di poter diventare grandi, in modo tale da potergli dare il valore giusto. Iniziamo, superiamo le difficoltà, finiamo e diamoci il nostro tempo, che altrimenti non andiamo tanto avanti. Figo, bello. Dovrei smettere di andare dello psicologo e fare solo video così.